Iniziato il confronto sul potenziamento del trasporto scolastico. Dopo l'annuncio della Regione Emilia Romagna di voler potenziare il trasporto scolastico in vista del rientro degli studenti in classe alle scuole superiori a gennaio, sono iniziati tavoli di confronto anche in provincia di Ravenna, fra prefettura, istituzioni locale, istituzioni scolastiche e le imprese che erogano il servizio del trasporto pubblico. Coinvolti all'interno della discussione anche i vettori privati, ovvero tutte quelle piccole e medie aziende che si occupano di trasporto persone, ma che non rientrano nelle convenzioni per il trasporto pubblico e per il trasporto scolastico. Sarà proprio ai vettori privati infatti che molto probabilmente bisognerà rivolgersi per riuscire a far funzionare il trasporto scolastico a gennaio. Il problema maggiore riguarda il numero di studenti che salgono sui mezzi, l'assenza di mezzi o di personale che ai mezzi li sappia guidare. A gennaio la scuola ripartirà con la didattica in presenza al 75%, ma la capienza sugli autobus rimarrà al 50%. Sarà quindi necessario aggiungere alla flotta in servizio autobus con capienza superiore alle 50 persone. Mezzi inferiori infatti rappresenterebbero un investimento non produttivo. Ma un autobus di grandi dimensioni rappresenta per un'azienda un investimento molto importante, ammortizzabile solo nel corso degli anni e molte delle aziende coinvolte hanno già investito il budget disponibile per venire incontro alle esigenze di questi mesi. Difficile quindi possono incrementare le proprie flotte e anche se ci riuscissero potrebbero non avere gli autisti in grado di guidarli. Visto quindi lo scenario entreranno in gioco le piccole e medie imprese. Per quanto riguarda la provincia di Ravenna, dove già i vettori privati sono stati coinvolti, si rischia di dover chiedere aiuto ad aziende provenienti da fuori territori con costi quindi maggiori per spostare i mezzi e costi aggiuntivi per il personale. Un'altra questione da discutere sarà la richiesta avanzata dalla regione di introdurre orari di ingresso e uscita differenziati da parte degli istituti scolastici. Nelle settimane scorse la provincia di Ravenna aveva già bocciato la proposta come impraticabile perché farebbe arrivare a casa troppo tardi studenti provenienti da zone lontane dagli istituti andandoli a penalizzare ulteriormente nella vita sociale e quotidiana. Non si tratta unicamente di ragazzi provenienti dalle zone culinari. Il problema riguarda molti studenti della bassa romagna che si espostano su Ravenna e Fenza per frequentare le scuole. Si sono poi gli studenti provenienti da altre province o anche dalla Toscana. L'istituto alberghiero di Riolo Termo e le scuole superiori di Fenza ad esempio sono frequentate anche da studenti provenienti dal Forlivese, dal comune di Imola e da Palazzuolo. Una situazione caotica per la quale si rischia di essere già in ritardo.